Senta signor Bigiogero, lei si è definito libero professionista, ci vuol dire di che cosa si occupa? Faccio la comparsa negli spot, nei film, ho un diploma come massoterapista. No però, mi scusi, lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi. Ad oggi nessuna. Quindi per libero professionista che cosa intende? Poco professionista, molto libero.